Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma io vorrei l'alieno. Puttana, non voglio l'alieno. Non voglio l'alieno. Non lo voglio. Grazie a tutti. Come ci impedisce di uscire? Con il nenne. Il nenne di manipolazione. Guardatemi nelle palle degli occhi. Guardatemi nelle enormi palle degli occhi. Voi volete restare qua? Voi siete qui, fermi, immobili, qua. Siete costretti a restare qua e a guardare tutta questa live. Eh? Eh? Cioè, facciamo la prova. C'è scritto 52 fps. 53. È buono? Mi fa schifo. E niente. Ma io mi mi piace, io boh. Aspetta. Ah, Dio, c'è nel film questa. No, è buona in teoria, no? No, no, è buona! Nel film è buona! Capretta, ciao. Ciao capretta. Oddio, ciao capretta. Ciao bella capretta. Ciao bella capretta, ti prego non incornarmi. Bella capretta. Raga, sto toccando una capra. Oddio. Ciao bella capretta. Ciao. Ecco, letteralmente posso tornare a casa. Ok, ho fatto quello che dovevo fare. Bella capretta. Ma ciao bella capretta, ma come sei barbosa. Ma un sacco barbosa. Ma ciao, puzzi un po' di merda, eh. Puzzi un po' di merda, sì. Puzzi un po' di cacca. Però ti perdono perché sei bella. Andiamo. Andiamo da bambi. L'obiettivo di questa live è semplicemente toccare le caprette. ...di aver conosciuto Vogue perché senza di lei non avrei mai conosciuto questa community fantastica. La state minacciando? ...oggi. Che quando... La state minacciando, siete della merda. Minacciare una povera ragazza in difesa così. Vieni, vieni bimbo, vieni, dai. Dai che tu almeno mi ami, vieni bimbo, vieni. Sei uno stronzo di merda. Semplicemente siamo gentili con chi è gentili. Devo dire che trovo molto originale e bello come ha scelto organizzare il suo sfondo. Ma è una figata, infatti l'ho detto anche... Ma tu, lei è perfetta, siete voi della merda. Regola numero uno, si minaccia solo la gente in difesa perché siamo troppo godardi per minacciare quella base. Grazie, nameless. A posto. Non è diverso, lei ci tratta bene e noi la trattiamo bene. Non è vero, pazzesco, vero. Come si possano creare dei rapporti di fiducia rispetto dagli stessi... È qua? Vabbè? 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 Eccolo lì, bellino. Se non potete trovarlo, vabbè? Un po' troppo. Avevo letteralmente partorito un bimbo di merda. Aveva senso, dai. Per quanto sapete che a me mette sempre un po' ansia a fare grossi inventi... Vabbè è morta. Vabbè è morta. Non l'ho rimessa, Gianna, ha visto? Quando entri la tua madre in stanza, be like. Fuck yeah! Summer Edition Rock! Summer Edition Rock! Yeah! Aspetta, aspetta, ma aspetta. Posso, posso dire una cosa? Non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale, se posso essere onesta, eh. Non ha ancora raggiunto il massimo potenziale, secondo me possiamo... Migliorare. Migliorare la situazione, raga. No, possiamo migliorare la situazione, non è ancora il suo massimo. Non so, quanto vi piace questa versione di... Ah! Ho giusto di me! Ah! 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 Ma ti sei lavata? Sì, aspetta, come si gira? Oh no, non si vede niente, aspetta. Deve si si vede... Oddio, fa il culo! Ah, c'era il colgolano, l'avevi visto. Vabbè, è già un fallimento. Va bene. Ve lo mostro. Visto che figli avete fatto fare. Hai iniziato a prostituirsi per causa vostra. Hai iniziato a prostituirsi per causa vostra, merde! 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 Tutta colpa vostra! È ancora meglio dell'originale. Questa è la capretta, la main capretta. Questo è il caprone. Ciao, caprone. Oddio, cado. Raga, il caprone! Signor caprone? La posso approcciare, signor caprone? No, no, dai, no, no. Questa non mi carica, non è vero, raga. Signor caprone, posso? Bello, signor caprone. Bello. Bello, signor caprone. Come va, signor caprone? Una bella giornata? Anche lei puzza un po' di merda, eh, signor caprone. Oddio. Non guardarmi così, ti prego. Non guardarmi così, bro. Bro. Non guardarmi così, ok. È stanco il signor caprone. Adesso ogni... Ogni sub la ringrazio in questo modo. Sono luci? Perfetto. Ogni sub la ringrazio in questo modo, a posto. Ma alla fine questo gatto arriva? No. Non mi dispiace quella vocina. Ehi, a posto? Un po' di paura. Facciamo così. Se riesco, ogni sub la ringrazio in modo diverso. Boom. Tolta sabba per troppo cringe, come ne eri più sabba, ci sta. Non vedo che mi scada. A proposito, a proposito, mi mandate per favore qua su Twitch la clip di Lalla che ha detto una enorme cazzata e palesemente la stavate minacciando, per favore. Che, cioè, nel Telegram l'ho persa ormai. L'ho vista già fuori, ma vorrei vedere adesso, eh. C'è qualcosa che non perdoneresti la relazione. Vabbè, a parte il tradimento, che mi pare una risposta ovvia. È mechile, grazie per il sesto mese. Ciao, Ellen e Narte Vogelita. Grazie, certo. Grazie mille. È in art, perché sono un artista. Ma grazie mille per il sesto mese. Bentornato. Aspetta. Non sto parlando male di Lalla, sto parlando male di voi. Chi è? Eh, eccoci qua. Motivi per cui non dovete fare... No, dovete fare la sub, ma motivi per cui non dovete andare nel Telegram. Perché così vi riducete? Così. E quando sono... Quando mi hanno regalato quella di... Quella... Quella sub. Dopo che inita... Non t'azzardare. Non t'azzardare. Non t'azzardare. Oh mio Dio. Mangaka di merda. È palesemente mangaka. È palesemente mangaka. Ma se ne ho accorto adesso. Beh, va bene. L'ha pettata della capretta finale, dai. L'ha pettata della capretta finale. Non caricarmi, ti prego. Oh Dio, sei una nemica? Oh Dio, grazie signora capretta che non vuoi incornarmi. Avevo una tanta paura. Avete visto? A me farla dolce ha tante caprette e conigliette. Dai, meglio di così non poteva andare. Io posso parlare o no? Io non ho capito sta roba, raga. Posso parlare o no? Le munizioni già ce l'ho, raga. Sono pieno. Posso parlare? Oppure lui mi sente? Io non ho capito sta roba. Perché voi avete detto, se parli ti sento. In che senso? Posso parlare? Io non ho capito sta roba. Eh, se... Già, perché... Non c'è il microfono. Ok, stanno trovando... A post. Sulla difficoltà è incubo? No, sei troppo... Chi l'ha detto? Tutti l'hanno detto. Ma voi mi avete detto, no, se parli fai casino. È come fasmofobia, tipo. Non avete detto che è tipo fasmofobia che mi sento, no? Posso inculare Paolo quando cazzo mi pare. Me lo faccio perché siamo amici.